Dopo aver passato la giornata in ostello a chiacchierare con il proprietario che mi ha offerto la colazione e mi ha detto che potrò tornare gratuitamente ho preso l'autobus da Phuket Town per l'aeroporto di Phuket al costo di 100 baht quindi sono all'incirca 3 euro più o meno e perché sto andando all'aeroporto, anzi perché sono in aeroporto? Perché sto aspettando una persona Spero che sia questo il terminal giusto perché qui nessuno parla inglese praticamente la zona di attesa del terminal è fuori dall'aeroporto in pratica perché non si può entrare dall'esterno e quindi sto aspettando questa persona qui davanti Ho fatto pure il cartellino per Claudio Vediamo se adesso riesco a individuarlo Eccolo, è arrivato, è arrivato Il dottor Colombo si sta notando come l'inglese che parlano qui non è inglese L'ho mandato a sbrigare una faccenda per il Pullman, gli dobbiamo dire esattamente dove andiamo e l'ho voluto mandare così inizia ad assaporare la Thailand Ragazzi siamo arrivati all'Hollywood in Love con Claudio e ora entriamo nella nostra stanza Mi piace una finestra Nel corridoio, forse dove c'è la nostra finestra? Immagino Ok è la nostra finestra Sta piovendo Ok ora sta piovendo più piano Eeeh Nooo mi c'è bagnato il piede A Claudiozzo piace Bangla Rode E' effettivamente un delirio questa strada Quindi ci sta Anzi qua non si capisce se le donne sono donne o meno Porca troia Noio Noio Grazie.